Ora vorrei collegarmi perché vedo già che è in diretta con noi Marco Ceresa che è il CEO di Randstad e volevo capire da lui che cosa vuol dire concretamente parlare di orientamento nel mondo del lavoro e se esiste una concreta e reale possibilità di occupazione che segua i percorsi di studi che un giovane decide di intraprendere. Posto che noi di Randstad riteniamo che sia importante continuare ad aggiornarsi, a formarsi durante tutto il periodo lavorativo di una persona riteniamo che i momenti più interessanti, i corsi più interessanti sono quelli fatti da aziende che si uniscono ad agenzie per il lavoro come Randstad e anche alle università. Questi corsi sono gli TS e gli FTS. Noi ad esempio di Randstad abbiamo un ITS tecnologico che prepara le persone a tutte quelle che sono le professioni del futuro del mondo digitale e mondo informatico. Sono molto interessanti e di fatti hanno una durata tra un anno e due e questa durata è significativa per formare le persone proprio anche sul campo e per far trovare a loro immediatamente il lavoro alla fine di questo corso. Grazie, un grazie a Marco Ceresa, CEO di Randstad.